Proseguono i lavori di messa in sicurezza della vela celeste. La ditta incaricata sta effettuando l'abbattimento dell'ultima passerella di accesso dall'esterno della vela celeste sul lato della vela gialla. In questo modo l'accesso all'edificio sarà possibile esclusivamente dall'area di cantiere che sarà chiusa e sorvegliata. Le passerelle interne rimarranno invece al loro posto per consentire alle ditte incaricate di trasportare mobili e oggetti pesanti che le famiglie sfollate non hanno potuto prelevare nelle scorse settimane.